Schioda. Ehi capo, avrei un gran bisogno di un po' di spicciolo. Niente da fare. Come sarebbe niente da fare? Quel cargo è appena arrivato e tu sei a corto di personale. Guarda, te lo scarico anche da solo se vuoi. Mi dispiace, niente da fare. Perché no? Io non c'entro, leggo l'asino dove vuole il padrone. E chi sarebbe il padrone dell'asino? Chiedilo a loro. Problemi? No, no, stavo chiedendo al capo se ce l'ha da guadagnare qualche spicciolo. Certo, se ci dai il 30%. Eh sì, ma se io vi lascio il 30%, con quello che mi resta non riesco a mangiare. Sei già troppo grasso, tienti leggero e ci guadagnerai in salute. E adesso viaggia? Sì, ma vedi, tu hai ragione, ma se io non mangio, non vado al cesso. E se non vado al cesso, cambio carattere, perdo il buon umore. Insomma, divento, divento rispettoso. Si è sgonfiato. Hai visto che hai fatto? Allora, perché non mi hai detto che c'era un lavoro da sfascia carrozza, eh? Vado al cesso, non vado al cesso. E se non vado al cesso. Vado al cesso. Salve Adesso lo sistemo io quel bastardo No, adesso no Abbiamo altre gatte da pelare Fai venire un'altra macchina Fai venire un'altra macchina